L'Unione Europea manderà una missione militare di mille uomini nella Repubblica Centroafricana. Si è aperto con questa decisione il quarto vertice tra l'Unione Europea e i paesi del continente africano. Riuniti a Bruxelles circa 80 capi di setto africani ed europei. In esclusiva su Euronews, il presidente della Mauritania, attuale leader dell'Unione Africana, ha dichiarato Non si può parlare di sviluppo senza parlare di sicurezza, perché questo è il solco su cui riposa tutto. Non si può investire in una zona dove c'è dell'insicurezza. È vero che, in particolare nella regione del Sahel, abbiamo vissuto molti problemi di insicurezza, ma non si tratta di qualche mese, è una questione che dura da un decennio. E per sostenere gli sforzi dell'Africa a prevenire i conflitti e mantenere la pace, saranno stanziati in un fondo specifico 750 milioni di euro tra il 2014 e il 2016. Non più aiuti, ma investimenti per creare impresa. È quel che chiedono le delegazioni africane, spiega Sanon Sibilal del Centro Europeo per le Politiche di Sviluppo. Al momento c'è un dialogo troppo soft sullo sviluppo e sul miglioramento della cooperazione, ma bisogna affrontare la vera questione. Quali sono le vere opportunità e in che modo la prossima generazione di leader africani ed europei potrà migliorare le relazioni a vantaggio di entrambi i continenti? Questo è quel che manca a questo vertice. Non mi aspetto queste discussioni in questi due giorni. Per superare la concorrenza della Cina nel continente africano, l'Europa spera di concludere partnerietti economici con 16 paesi dell'Africa occidentale al termine di questo vertice.